Ragazzi, bentornati. Altro episodio con Alan Wake 2. Dobbiamo trovare un modo per entrare nella sovrapposizione. Siamo adesso in una specie di scantinato e la situazione è un po' strana, però ci sta qualche brilluccichio qui che vedo. Potrebbe essere vicino a questo modo per entrare nella sovrapposizione. Quello che è successo nell'ultimo episodio, tra l'altro, è stato molto, molto sorprendente. Mettiamola così. Che ci abbiamo qua, eh? Tutta roba che già possediamo. Qua possiamo andare? Possiamo andare anche di qua? A sto punto io andrei di qua. Mari Mortacci. Va bene. No, 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 no. Senza luce ci vogliamo male, eh? Fate scherzi qua. Esce qualcuno all'improvviso. Sono capperi. Manoscritto. È il momento di leggere, Alan. Via. Emmett Elwood ha avuto. All'improvviso. 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 dopo aver visitato il resto. Tocchendo le cose. Tocchendo tutto. Il mondo stava in un pollo. L'ho guardato giorno dopo giorno come tutte le cose le cose in la vita in Bright Falls erano sbagliati e bruciati per sempre. C'era un giusto e terribile racconti. Emmett aveva immaginato molte volte come gli rendi pagati. L'ho lovingly tendo l'angere, made it grow hotter. Era ora in l'open, ugli e slobberato. L'ho arrivato con le mani non sbagliati. L'ho sbagliato. L'ho sbagliato fino a che non si muovono. E poi l'ho sbagliato le mani con un forte disinfettante antibacteriale. Sto Emmett Hellwood ce l'aveva pesantemente con gli tsozzoni luridi. Lavatevi le mani, ragazzi. Snuffate gli tsozzoni. Allora, qua si può andare giù. Momento, momento. Ah, giusto, 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 giusto. C'è qualcosa qui? Permesso. Ah, batterie. Batterie. Siamo quasi full. Allora, rose. I fossibili di ricambio ora sono sotto chiave perché qualcuno, Ati, continua a rubarli. Il codice è in lavanderia. VB. Ok, ok. Andiamo avanti, ragazzi. Qua si poteva passare, ma io voglio passare di qua prima. Permessa. Chissà se si apre questa. No. Ecco. Già che sento sta musica. Attenzione. Attenzione perché c'è... Bellissimo, bellissimo. Adesso ci facciamo il cinemino. Chissà se rivedremo Alice, ma ne dubito, eh. Ne dubito. Allora. Casa di Zane, noto cineasta, fonda una comunità a Bright Falls. Thomas Zane, nato Thomas Sein in Finlandia, e la sua compagna Barbara Jaeger, nata Baba Jakala in Finlandia, hanno recentemente fondato una comunità di artisti qui a Bright Falls. Zane ha acquistato la vecchia residenza fuori città e la coppia vi si è già trasferita. Nella sua terra d'origine e anche a livello internazionale, Zane è un noto rispettato cineasta, un astro nascente che viene già paragonato a registri del calibro di Stanley Kubrick e Ingmar Bergman. Bergman, scusate. Il suo film precedente, Night Last Night, ha vinto numerosi premi europei. Al momento Zane sta lavorando a un film intitolato Tommy il Poeta. Nelle conversazioni, Zane appare come un uomo carismatico e con grandi sogni. Dice di voler costruire un hotel e uno studio cinematografico nella zona. Noi Thomas Zane, ragazzi, l'abbiamo già conosciuto nel primo Alan Wake. Conosciuto. Vabbè, poi sarebbe da approfondire. Ha anche già deciso il nome dell'hotel. Hotel Ocean View. Chi vi parla trova che questo nome suoni decisamente bene. I suoni di Zane, qualora si realizzassero, renderebbero molto famosa Brightfalls. Anche i membri della sua comunità la pensano così. E considerano Zane degno di essere venerato, quasi al limite di una setta. Una persona che guida il proprio grege per espandere le coscienze e raggiungere un più alto livello di ispirazione artistica con l'aiuto di funghi magici. Premesso che la Brightfalls record non è favorevole all'utilizzo di droghi illegali, ci auguriamo che Zane aiuti la nostra cittadina a diventare famosa nel panorama artistico. Ho capito, Thomas? Sei funghetti. Li mortelli sua. Vai. Qui ci sono? E' una cosa che si guardano nel panorama film? E' solo come Casey. Cosa sta accadendo? Cosa sta accadendo? E' un trailer Molto carino C'è un libro che non riesco a vedere Che cosa sia Eh Casey Casey Possibile Bene Altra pagina Cynthia corrotta Qui si apre Ok Aspettate ragazzi che qua E' tutto molto simile quindi Faccio anche Una leggera fatica a ricordarmi bene Dove siamo stati e dove no Devo dirvi la verità Permesso? E che so sti rumori Allora Oh Ragazzi Eh no Io ho sentito eh Allora Il codice 273 Rose Se leggi questo ricorda residenti di non toccare la mia roba Credo che mi odino 273 Gli affaccia la foto così almeno mi ricordo Se sa mai che Sta cosa ci può servire più avanti eh Allora Fiamo scherzi qua Che Cynthia E' dietro l'angolo proprio eh Io non posso andare Torniamo indietro Guarda come appare All'improvviso Ve lo dico io ragazzi Qua c'era Ok Niente per noi Troppe munizioni Troppe munizioni C'ho paura Avete sentito? Qua dove si mette Dove si dovrebbero mettere i fusibili? Mmm Usciva una voce Veramente brutta Ma veramente brutta Qua non si può aprire eh Momento Ma questo è fusibile Dove lo mettiamo? E questo? Ah ok Ok C'è un posto che Forse mi sfugge eh Che qua è bloccata Oh Altro messaggio Promemoria Comprare altri fusibili Molti altri L'attrezzatura vecchia Continua a bruciarle Questa è bloccata Non me la fa aprire Proprio questa Forse è qui che devo andare No Qui ci serve il pass Oh Mortacci tua Cynthia Eh che cavolo Mi so cagato sotto Scusate ragazzi Qui è partita Proprio la mini sgommatina Sulle mutande Che è sto rumore Si riesce Da qua Che è successo Tutto a posto? La signora è ancora lì eh Signorina Rose What was that? Where did Tor go? What on earth do you mean, Saga? Tor is resting in the wellness center Remember? What? We both saw him go into the pond Okay Profilazione vai Il momento Rose watched Tor go into the pond Why is she lying to me? The secret mission for Alan's number one fan The hero will say Wake has returned We're all characters in his story Gee whiz Gee whiz I'm not his fucking character But I can use that phrase to make Rose stop lying to me Wake has returned Cynthia took Tor What happened to her? When the darkness touches your head Your bookshelf gets shuffled I put her lamp in the shoebox What do you call a lamp lady Without her lamp? Is Rose talking about Cynthia or herself? Or both? Hmm 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 Okay Rose Wake has returned Oh my god You are the hero You are here to save Alan I feel so silly for trying to keep you out of the wellness center I locked Tornhill in there after they lost it And I didn't want you to get hurt Before I forget Here's the page Wake told me to give you Oh Che figata Allora devo ritornare là dentro Dentro Insomma Quella porta che abbiamo trovato Se mi dà le chiavi Credo Chiave elettronica Saga jabba il selector Nella box Il messo il record Nel suo place Saga I couldn't have found it without Odin's help A light bloomed in through the garden window The horror story beat me to Torn I have to rescue him Posso parlare ancora con lei? The key to this overlap is an old gods of Asgard record Odin will know more Ok Va bene Dobbiamo fare un'altra profilazione Io volevo tornare un attimo Qua sotto E vedere se mi si apre Quella porta A questo punto ragazzi Spero che Cynthia Non venga a rompere Le palle La musica è brutta Già non mi piace Manco mi ricordo Undo sta quella Quella porta C'è una brutta musica ragazzi Qua appare qualcuno all'improvviso Ve lo dico io Ve lo dico io Vedatevi Allora Qua Non è Non mi ricordo Che dovevo andare in basso Nemmeno qui Forse era proprio qui E' vero? Poi di nuovo qua Qua no Qua Giusto col cavolo No Oh regalo Mica mi ricordo Tutto uguale Era qui Eccola Vai Alla grande Tutto ok Perché questa musica Che ansia Ma non c'è niente qua Per me non c'è niente Per me Non c'è niente Ma era proprio a sinistra Ragazzi Subito all'entrata Va bene Profilazione Questa musica Mi stava uccidendo Terribile Vai Odin Dov'è? La pagina Mentione Un record Do you know where it is Odin? Driven by passion Raging Like a storm Your grandfather Made the song To apologize To your mother Freya And to you Tors like a storm Your mother Did the right thing Leaving with you Even if it broke Your grandfather's heart And mine Listen to the song Saga It's all there Tor only had one record made He keeps it in the museum Odin knows my mom's name He's saying my mom took me away when I was still a baby Plausible Stay on task The record is in the museum Il disco è al museo Bene Cerca il disco nel museo Alla casa di riposo Poi tocca rientrare nella casa Regà E vi è da ride E vi è da ride Allora Tu mi dici qualcos'altro? Ah Ah What happened to Tor just now? Cynthia took him I knew someone was messing with Tor's head There's something wrong with the water here Pipes acting up Black stuff coming out Cynthia's probably behind that too Does Cynthia have any connection to the cult of the tree? Oh no She's way too frail for that But she used to be this town's best defense against the forces of darkness Well After Alan Well I guess it finally got her Wake is in custody How have you been in contact with him? He leaves me messages in funny places Like the newspaper Books Once he even wrote to me with a cloud If it's something really important He tells me in a dream Okay And what does he say to you with these clouds? Ways I can help him How I can stay safe Good dinner recipes Ways to kill Taken Lots of stuff I've been finding some pages of writing lately too So he must be working on a new book Exciting You need to get the residents out of here It's not safe Oh This kind of stuff rolls right off their backs They've lived very rich lives Very resilient But I already told everyone to wait at the designated muster point on the front porch We run drills every few months I'm so proud of them I'm impressed by how prepared you are We're pretty used to this kind of thing Lei è un sacco contenta Sembra Super eccitata Super felice Di partecipare Essere parte di un libro Essere un personaggio Avere Il suo momento di visibilità Essere realmente utile per una causa Ehm Boh Con il lavoro che fa in realtà Dovrebbe essere già Contenta di per sé Hm Lei è molto strana comunque Wake tells you how to kill Taken Oh sure You're the hero so you must know all about it All you need is a strong light And then your conventional methods of extreme violence Simple stuff The tough part is hiding the bodies I honestly don't know how to react to this Just doing my part sister Faccio solo la mia parte ragazzi eh Anche questa frase È emblematica Dobbiamo rientrare dentro quindi Questa è la casa di riposo no? Ci ha dato la chiave quindi Possiamo fare di tutto però Prima di andare Voglio vedere qui Se c'è qualcosa eh Non può dire niente Qua si entra Non so se entrare da qua E tornare indietro Per me è una cavolata Secondo me dobbiamo passare dall'altra parte Questa strada qua Vediamo Anche perché con questa chiave in realtà Si potevano aprire diverse cosine Dov'è Ati? Perché scompare sempre? Tutto vuoto qui eh Comunque quanto fanno le ambientazioni ragazzi Spettacolari Allora l'ultima volta che abbiamo visto Ho sentito qualcosa Era Odin Odin bloccato a letto Odin Anderson stirre in his bed His vision hazy Smudged He felt weighted down By un'oceano di dark water Through the haze He made out Saga Odin felt useless He wished he could tell Saga How his silly faces Made her smile When she was young Too young to remember Odin used to joke That Tor was her grandfather But he was the all father He smiled at the memory Odin was the kinder Of the Anderson brothers Tor lacked patience More volatile The brothers fought a lot But they were inseparable Now Tor was missing Dragged into darkness Odin could feel it Time was running out For both of them Ok Io continuo a salire Visto Avete sentito? Viene da qui No Non da qui Dove cavolo sei? Ok Sono sicura Perché lo sentivo così vicino? Salviamo Aspettate ma Ok Sono un attimo confuso Questa La possiamo aprire Eccolo È questo È questo Ok 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 qua si parla del Del gruppo Ragazzi Però possiamo immaginare Già tutte le scorribande La finestra La finestra Ora facciamo la profilazione Un attimo Ho qualche brividino Vi devo dire la verità Qualche brividino Ce l'ho L'aiuto fa L'aiuto fa L'ambiente fa tanto Eccolo Ehi Non ci posso parlare Ancora Va bene Facciamo la profilazione Abbiamo anche Cynthia Donna che brutta Ragazzi Anga L'argomento 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 Becomes L'argomento L'argomento Oh Tor Bro Tor's Love for you Is in that song C'è quello che Cynthia ha chiesto, per farlo. Lei ha fatto Tor ha chiesto dopo lui. Abbiamo combattuto l'unico grattante anni fa. Ora, ha chiesto per l'unico, e potremmo lo perdere per bene. L'unico più Anderson. Questo non va a succedere. Cynthia ha tornato l'acqua. Angus' remorse è la clave per arrivare. Ho bisogno che Cynthia riveli la sua locazione. Ok. Sta brutta. Cynthia ha cercato Tor specificamente. Perché lui? Si tratta con un ragazzo di Anderson. Il suo cervello è rompito. Cancellato. Le cose iniziarono appare. Era troppo tardi. suurlo. Cancellato. La presenza è usata Cynthia. Mi parecato di parlare con Tor. Qui è l'angos' remorse ora? L'angos' remorse è una ragazza. Una ragazza. Un'angelo. 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 An arm of death wish She has the record I can get it out of her Anger's remorse Where is it, Cynthia? Drowned by the dark water Too many hands The bathroom frightened her Cut short She screamed And all folks Care home No, I don't want to Annar there Mi dispiace No, I don't want to Annar there Che siamo matti Guarda che Allora, aspettate La stanza di Cynthia Qual era? Manco mi ricordo Qui c'era la povera vecchiettina Che faceva Allenava Forse Forse Era la Ah, era sopra La stanza di Cynthia Ragazzi Ma lo ricordo come fosse Ieri Allora, raga Aspettate un attimo Aspettate un attimo Mamma mia Mamma mia Oddio Adi Ma tu non puoi fare così Bello mio Comunque vi devo dire la verità Era Ne ho giocati Di titoli horror Ma Questa sensazione Di pericolo Questi brividini Che ho Lungo il corpo Era Tanto tempo Che Non li provavo Do you know anything about The cult of the tree? Yes, yes He who reaches for a spruce tree Will stumble into a juniper Bloom was one of them He has kicked empty I wouldn't want to be in his shoes But I like his shoes How did you know Bloom was part of the cult? Oh, fox never runs out of tricks He is a crazy man And he will show his waist Bloom like the dog Ok, Adi Non farlo mai più, eh Questa si può aprire Io lo faccio adesso No Non va Che strano questo simbolo Comunque Qui siamo, eh Vi devo vedere un attimo qui Ok Cynthia La tua stanza è No, quella di Norman è aperta Ok Tra niente Da Norman L'avevamo già visitata Gail Pagina Eh Momento di leggere Alla costruzione della casa di riposo Valhalla Wheeler set up a foundation With the sales of their greatest hits album He used the cash to build a nursing facility He used the cash to build a nursing facility The old men deserved it An old manor in Bright Falls Wheeler hired a contractor to have it refitted as an old folks care home At this point Wheeler felt good about himself He had a heart of gold No need to feel guilty Wheeler left the work to the contractor and returned to New York City He had done his part It was time to turn over a new leaf The contractors figured out Wheeler was gone for good They took the money and ran And when the fall rain came The leak started appearing Vabbè è sempre bello fare approfondimento Anche sulla costruzione di questo posto E' il momento E' la stanza Oh Dio mio Devo ripristinare la corrente nel seminterrato L'immortal Oh He's crying in the dark place What has been Has caught But trouble doesn't look like this You can go to the basement And check the generator But look out You can never know In which street The devil sits Tu ritorni là dentro? Thanks Mamma mia Ati Come cazzarola fai? Dov'è il seminterrato? Dov'è? Allora Noi siamo qui Noi siamo qui Seminterrato Piano terra Sala da pranzo Come ci arrivo però nel seminterrato Che vedo tutte Ma il seminterrato non era il luogo dove eravamo Ragazzi qua c'è Deve essere uno scontro a fuoco per forza Me lo sento Ma che cavo Mamma mia che ansia Incredibile Una roba fuori De testa Oh Oh che figata Che figata Stanno qui You all should stay out here a while Until it's safe I'm happy to get out of that house Isn't it strange That I've lived in Bright Falls my whole life And I can't remember this building The house has always been here, Norman Remember when that poor Nora girl drowned in the bunker? Those Andersons got it so cheap Because it's haunted You get what you pay for Hmm Is there anyone who didn't show up? A few Artie Gil Cinzia If they aren't here by now Then they aren't coming It's important to be punctual On that topic I'd like to point out That our nightly decaf coffee service Is almost half an hour behind schedule Have any of you noticed anything odd About Ms. Weaver? Just that Tor won't leave the poor woman alone That brute wants one thing And one thing only Cinzia's gotten downright bossy Take a swim in the pond, Norman Drink some water, Norman Well no one tells Norman McDonald what to do Hello there Are you Pat Mayne From the radio? That's me And you're the federal agent Everyone's been talking about Would you have time for an interview at some point? Oh sorry I'm kind of in a hurry right now Love your show though Very informative Thank you Never a compromise on quality That's my motto We'd be happy to have you on the show Anytime Me and my listeners Okay Mamma mia Che ansia ragazzi C'ho un'ansia addosso Che voi non avete idea Mandy Mae Are you alright? You're bleeding Oh How did that happen? Oh no Mandy Mae Oh no Oh don't be a crybaby Norman It's nothing I just Poked my finger knitting this Monster of a blanket Va bene ragazzi Rimanete qui Io torno dentro Aspettate Allora Noi siamo qui Allora Questa è la nursing home Ok Aspettate un attimo Se esco Mi dice Centro di rehabilitazione Villa Va bene Dov'è il seminterrato? La destra Se non sbaglio Sala da pranzo Permesso? Cynthia Non famo scherzi Oh Eccolo Oh Aia mortacci Via Via Dov'è sta? Guarda che Liscio Ah ma so due Ricarica Andato Non vedi Ah oh Non vedi Dov'è sta sto seminterrato? Scusate ma il seminterrato non era questo ragazzi Eh No Ah Ah se è interrato Eh si Magazzino Allora Wait 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 Che noi In teoria dobbiamo andare lì La signorina non c'è più eh Non c'è proprio più Se non sbaglio il fusibile Dovrebbe farmelo sistemare sempre qui Sentite Regà Ma che non c'ho muni Non c'ho munizioni Sgravate Fissando se ripristinava sta corrente poi Scusate ma io non c'ho munizioni per il fucile a pompa Come è possibile Ma qua è il generatore se non sbaglio no? No Col cavolo Eccolo Vai E che pensi che è facile Torna indietro mo Eccola Oddio Mali mortacci tua Ma guarda che è assurda questa eh Ma questa è tutta matta Sì sì Perché qua non è incontro secondo voi Eh Ho notato Poi regà non c'è cosa più paurosa per me Delle vecchiette Incastrate Immobili Da qualche parte nella casa eh Non c'è cosa più terribile L'antiche rumori che sta a fare È il momento Vai La vecchia incastrata immobile Ai gnanci tua Le cose poi mi mettono un'ansia Indecente Ok la profilazione sta per avverarsi Allora Questo è importante Questo è da leggere eh Allora Oggi ho controllato Le luci nel seminterrato Non posso farlo fare a Bloom È troppo lento Ma raggiungerla inizia a diventare sempre più difficile per me Non posso continuare ancora per molto La lampada di Tom non c'è più La lampada con l'angelo Adorava quella lampada È sparita dalla mia stanza L'oscurità è qui Dopo tutti questi anni Ha preso la lampada di Tom So che è così Le luci vanno via sempre più spesso Non è rimasto nessuno a impedirlo Da sola non ce la faccio Non più Ora non mi resta più nulla di Tom Non so che cosa fare Rivoglio la lampada di Tom Rivoglio Tom Le ombre si muovono Non c'è più luce Niente più lampade Non so più come uscire dalla stanza Qualcuno ha chiuso la porta Sono stata io? Forse l'ha fatto Tom Probabilmente per tenermi al sicuro È davvero premuroso Barbara non se lo merita Tom potrebbe avere di meglio Dov'è finita la lampada di Tom? Ce l'avevo io Forse l'ha ripresa Non c'è problema In fin dei conti era sua Le ombre si muovono? L'ho scritto io? Che assurdità Non ci sono ombre Ci siamo solo noi Io e Tom per sempre Ho trovato una cosa strana Mentre ero là sotto Un articolo di giornale su Tom Ma lo descriveva come un regista Fichissimo Fichissimo Tom non faceva film Era un poeta Un eccellente poeta Ho cercato un po' E ho scoperto dell'attrezzatura cinematografica Sempre di Tom Cosa sta succedendo? C'è qualcosa di sbagliato So che è così Allora ci sono gli indizi Che vogliamo mettere nel tabellone? Allora Rose Wake l'ha istruita su come uccidere i posseduti Pensa di aver lavorato per lui Forse lo mettiamo qua Ok Deduzione è possibile Rose non è un seguace E questo Ne siamo assolutamente convinti Ehm Realtà è finzione Allora Abbiamo Odin Dal poco che mi ha detto la mamma È plausibile È davvero così? Cosa ha fatto Thor per farla andare via? Oh me sbaglio sempre qua Ok Fratelli Anderson Eccola qui Nello stagno Ok Vai Cynthia e Thor Cynthia ha seduto Thor Per tenerlo lontano da me Ok ok Hai capito Cynthia Cynthia voleva il disco Thor avrebbe fatto tutto ciò che lei gli diceva Se Thor ha dato il disco a Cynthia Lei è l'unica che può dirmi dove si trova Sappiamo già dov'è Adesso lo prenderemo Questi intanto li mettiamo tutti No No scusate ragazzi Questo mi sa che va Ehm Qua Ok Wick ha detto a Rose di cercare l'eroe Rose non aiuterà nessun altro The page says the record will open the overlap Or is the page predetermining it Am I just playing into the story Cynthia va nascosto il disco nella sua vasca Speriamo che funzioni ancora Manca un disco dal museo Ok questi andavano fatti prima ragazzi Ma ormai Facciamoli tutti E poi qua per voi Voglio fare anche questo No ancora no Va bene Ci siamo eh Qui c'è una foto Ok Non so se entreremo subito nella sovrapposizione appena toccheremo il disco Eh infatti Stavo pensando alla stessa cosa Sembra un tavolo Con dei led Delle luci all'aperto Tipo una veranda Sembra Infatti Scusate ma Voglio dire nulla ancora eh Ma c'è una profilazione da fare Scusate Eh si Thomas Zane È importante Scusate ma Thomas Zane Is he Tom was back Tom had enemies In a fancy hotel Just his imagination A nightmare started to creep in Cynthia Weaver Smile An old flame Maybe Tom was taken Oh mio dio Oh mio dio Pagina Anche questa potrebbe Anche questa potrebbe Cynthia would deal with the nasty Anderson fellow Thor Always poking people with his hammer Scusate Cynthia e Tom Ma Scusate non è che Si può sentire interamente Infatti Cynthia Weaver Cynthia Weaver Scusate ma Scusate ma Scusate ma Scusate ma Scusate ma As giddy As a young girl In love Cynthia Had loved Thomas Zane Tom Only had eyes For Barbara Barbara Was bad news Tom Had seen it In the end Cynthia Had been there To comfort him And when he left Cynthia Waited Years Of waiting Now Tom Had come back To her They'd be together now See the world She'd always dreamed Of seeing New York They were there now In a fancy hotel She drew a bath She would become Like Barbara No Better She sank Into dark water Into Tom Tom had enemies Plotting against him Cynthia would deal With the nasty Anderson fellow Thor Always poking people With his hammer He had it coming Anything for Tom Mamma me Bomba Gomuk Bomba Anga's remorse My old gods of Asgard I need to play it In the jukebox Oddio mio Mamma mia Sono Allora Esteticamente Questi Ehm Jumpscare Sono bellissimi Da vedere Non è il tipico Jumpscare E' molto Contestualizzato Poi tra l'altro C'è da dire Questo eh Sono bellissimi Ma Mamma mia Prima o poi C'è stiro Ciao Ati Mi dici qualcosa? Niente Questa ancora Non si può aprire Ok Il Jukebox Mi sembra Fosse vicino Al seminterrato Mi sembra Ma io non c'ho Munizioni buone Questo rumore Ecco No Eccola Spara lì Spara lì Spara lì Mamma mia Morta male Questa eh Chi siamo Mi fai sentire La musica Che figata Però eh Che figata Ragazzi Rieccoci nel Loop In questa fase Il gioco è Cresciuto Moltissimo Secondo me Brightfalls record Scoperto in un bunker Allagato il corpo Della giovane Scomparsa Allora Nora Esberg Quindicenne La ragazza del posto Che era scomparsa Sabato scorso E' stata trovata Morta nel bunker Sotterraneo Chiuso Vicino alla casa Di riposo Valalla Di Brightfalls E' stato confermato L'annegamento Come causa Del decesso L'incidente Si è verificato Durante un raduno Di giovani Nel bunker La scomparsa Di Nora E' stata denunciata Dai genitori Domenica mattina Quando si sono accorti Che la figlia Non era tornata a casa Dalla sera prima Un'amica della vittima Ha suggerito Alla polizia Di controllare Il bunker La tragedia Viene considerata Un incidente Dalle forze Dell'ordine Tutta la comunità Piange La scomparsa Della giovane Ok Qui c'è qualcosa No Sì Ma come inventario Pieno Ma scusami Perché inventario Pieno 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 Mamma mia Che lavorone Che lavorone Senza qualità poi le texture Sta succedendo qui Ma Sì esatto A me sembra che stiamo girando in tondo Esattamente Forse devo andare Un'idea Una mini idea Andiamo indietro No Ah C'è una porta adesso però invece Forse era andare indietro per uscire Ok Mamma mia Questa è scrittura ragazzi Anche Il modo di immaginare Un certo tipo di level design Di far accadere determinate cose È tutta scrittura E funziona Fottutamente Bene Grande Sam Lake Non solo lui ovviamente Anche il team di scrittori Di sceneggiatori Luce rossa Luce rossa Si scende ancora Prima abbiamo sentito la voce di Logan La figlia di Saga Posseduti che dicono che l'inondazione si sta avvicinando No power Can't use the switch Taci tua Ok Dammi qualcosa Non questo Generatore Ok Via Che sollievo Vedere la luce È vero è cambiata qua La situazione Ecco Già se non uscimo da luce però Permesso Di nuovo Alan Ah no non è la lampada Ah siamo di nuovo all'inizio Ok Ma di nuovo qui Giustamente è la sovrapposizione Quindi Esatto Guardate che meraviglia Queste Reali sovrapposizioni Si vede una Stanza Si vedono delle lampade Eh me ne so accorto Non c'avevamo manco munizioni Voglio vedere come affrontiamo Cynthia Siamo di nuovo nel loop All'indietro Guardate che Pazzesco il level design Così eh Siamo di nuovo nel loop Cioè guardate È risuccesso un'altra volta Quanto mi stai confondendo Mamma mia Quanto mi stai confondendo Vediamo Aspettate Eh no Ok forse Vuoi che Vuoi che Vada di qua no Forse vuoi questo O forse no Abbiamo acceso la luce Qui Che abbiamo Inventario pieno Inventario pieno Ma non è possibile Non è È totalmente impossibile No raga ma com'è possibile Non posso prendere Ah ecco perché Inventario pieno Ma sono uno stronzo Eh Sono veramente Uno stronzo Ragazzi Mannaggia La miseria Eh Perdonatemi Ho commesso Degli errori Incredibili Durante questa Questi due episodi Non mi sono reso conto Di aver L'inventario pieno Ho perso munizioni Importantissime Per il fucile a pompa Questa porta Come si muove Ok infatti La porta è sparita Adesso Però scusate Questo è Lo stesso Meccanismo Per avanzare Di Di Alan Ci manca Ci manca Quindi niente Questa Si apre Col cavolo Che si apre Eh ma io Un modo per andare Lì lo devo Trovare Vedete Anche questi Allora Che cosa Ci togliamo Ci togliamo Sentite Io queste Non le uso Ok Però questi Devo averli Ovviamente Devo averli Dai dammi I muni Dammi i muni Che è? Chiave armadio utensili What? Chiave armadio Forse Lì può servire Una chiave Qui no Forse qui No 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 Ok Ok Altri Cassetti Ok Questo Continua Non Quadrarmi Eh Se chiudendo Non riesco A passare Ma qui Posso aprire Questo Ah Vedi Bene Bene Eh questo Ci serve Tra l'altro Ci sono tante Porte Che necessite Porte Vabbè Tante cose Che necessitano Queste tronchesone Anche tornando indietro Con un po' Di backtracking In realtà Oh Oh Portacci Spara lì Spara lì Vediamo che sai fare Madonna Che martellone Che martellone Ma io con questo Te rompo Eh Madonna Madonna Che bello Che bello Che bello però Vorrei rompere Quelcosa Uh Bengala Che finaccia Che finaccia Ho preso Una piccola pausa Ma è bucato tutto Però io godo Che è? Ah frecce Frecce Adesso si può aprire Adesso si può aprire Olè Quindi magari Riaccendendo Anche la luce Cambia qualcosa Niente energia Porca miseria Va bene Quindi dobbiamo andare avanti Mamma mia Sempre più in profondità Sempre più annegati Tra l'altro Ok abbiamo fatto anche questo Adesso dovrebbe esserci L'ultimo loop E' figo però eh regà E' figo dai Questa non c'era prima Che c'è qua Ecco ad esempio Questa roba non mi piace Per Vedere che cosa c'è dentro Non me la fa manco prendere Non si riesce bene Con la telecamera Oh stiamo sentendo Torra No Dove vado Donna che paura Signori E signore Qua Può essere che La cacca me la faccio Seriamente Cos'è quella cosa enorme Cos'è quella cosa enorme Qua non puoi venire Qua non puoi venire però Eh tu mi vuoi far scendere Nell'acqua saga Quindi Credo sia Eh ragazzi sto cercando di capire il level design Perché vedo delle Piattaforme no Credo ci servano a qualcosa Per riuscire a colpirla Appena scendiamo Non riusciamo Ok comincio A capire Comincio a capire Che non devo salire da lì Ma da qui Ok Ragazzi Calma Ora scendiamo Dai arrivi Vieni vieni Sali Ah no Io posso stare tranquillo Quindi Semplicemente Vediamo se No Liscio Niente Non riesco a capire Che devo fare Regà Devo andare Piattaforma per piattaforma E arrivare dalla prossima Forse Forse si Sapete Forse si Forse si Forse abbiamo capito Devo arrivare dall'altra parte Non posso affrontarla adesso Aspettate un attimo Corri 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 Ok Beh ci siamo No Ah pure qui Devo farlo Porca Miseria Eh ma qua È lunga Forse è dall'altra parte Che devo andare No è qua Carino Carino Questa Questo modo di avanzare Molto carino Corri Corri Momento Momento Ok Qui non è Dobbiamo ripristinare La corrente Ai 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 Mi so salvato il culo E ora dobbiamo tornare indietro Forse posso passare da qua Cavolo Momento Vediamo Sì Ok Mamma mia Mamma mia Ragazzi Ok 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 Sì, ma qua dove si va? Qua è tutto buio Ah no, qua, ok Secondo me devo scendere ragazzi, eh Vero? Cynthia? Dove sei? Ah ecco, perfetto Ma che voli? Mortacci Eh, ma può essere che muoio, eh E continuo così poi Devo muovermi Ah, sono tipo bombe d'oscurità Mortacci sua Mortacci Non soffrire Guarda, guarda che non Oh Sì. Tu di nuovo. La F.B.I. Saga Anderson. Mi sono più vicino. Mi sento. Tu mi aiutarti più vicino a scapparare. Aspetta. Tu dove sei? È questo che si arriva da un luogo in cui ancora ero? Ho la clicca. Ci possiamo finire. C'è un clicca. Ci possiamo aiutare. Ci dobbiamo trovare. Ho già ho. Posso farlo. Ci posso farlo. Ma devo capire. Tu scrivi Logan nella storia? È in danger. È in danger. Ho bisogno di tornare. Ho scritto una storia. È la sola forma. Allora cambiare la storia. Se questo è il passato. Se questo è tu, ancora in la scurta, allora puoi fare questo, certo? Tu non puoi scrivere la storia. È mia figlia, goddammit! Dì, cosa ha? Se lo guarda. Sì, Logan è nella storia. Non mi può volare a cambiarlo. Non mi può dare lo cambiarlo. Hà nulla right per fare questo con Logan. Per mio amico. Tor Oh, fucking hell Are you okay? He took you sweet time to come save your grandpa, huh? Nice attitude A family trait? You're right Sorry Thanks for helping out an old bastard like me That's my job Now, I've got some questions for you Of course you do, sweetie pie And I got answers Gran, gran, gran capitolo Bomba, Wiss Ragazzi, tra questa musica suave Adesso andremo avanti Vediamo l'inizio Del nuovo capitolo Ripeto Ogni volta La musica di questo gioco Fuori di test Andiamo avanti Ah, ok Non c'è nessun video Perfetto Ragazzi Ottimo Ci salutiamo qui Al prossimo episodio Ciao a tutti Grazie Grazie.